E' buona ragazzi come sempre Travis Gay Parla e oggi sono qui tornato con un nuovo video Perché raga come avete letto dal titolo finalmente, dico finalmente questo momento importante per tutto Call of Duty Black Ops 3 Sono arrivato a livello 55 e come potete benissimo vedere mi mancano 7.639 punti per raggiungere finalmente il maestro prestigio Quindi il livello 56 e poi tutti i livelli successivi e cambiare l'emblema e le solite cose che sappiamo tutti Quindi raga io vorrei condividere questo momento con voi, tra l'altro oggi è uscito il primo video sul canale Spero che andrà bene, non lo so perché l'ho appena pubblicato Ragazzi io comunque spero che il video vi piaccia, ci andiamo a fare una partita su Deathmatch a squadre così non dura molto Tanto i punti da fare sono pochi, ci becchiamo in partita a tra pochissimo Ok raga ci siamo, siamo in partita Tra l'altro adesso si dovrebbe sentire proprio, facciamogli il culo, si dovrebbe sentire proprio bene il microfono Perché ho alzato il volume quindi dovrebbe essere tutto bene La mia squadra è buona perché contro abbiamo dei livelli scarsi quindi speriamo di andare bene Sto usando il WMP, sto usando la classe più forte che quella che ritengo più forte Assist bene, perfetto, mazza, bell'inizio Allora vediamo di capire dove sono Allora non parlerò moltissimo raga perché Comunque voglio portare a casa una buona partita e una vittoria soprattutto Perché perdere un Deathmatch sarebbe assurdo Eccolo Non è vero Sì Ok Ce n'è uno qui Perfetto Mamma mia percezione ambientale raga Qualcosa di illegale Sicuramente illegale Dai facciamoci la doppia Perfetto Ok 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 Non vedo l'ora di vedere la scritta livello 56 Ve lo giuro Abbiamo un dato di calore da sfruttare Mamma mia no 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 Allora Perfetto Ok Ok con l'OV possiamo muoverci un attimino di più perché Così Vediamo un po' di Andarli a prendere direttamente No 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 Volevo prendere il Visat cazzo 90 punti al Visat Stai scherzando No non è vero 90 punti al controattacco Ecco no perché mi sembrava strano Ma perché tutti assist raga Ma che partita è Cazzo Vabbè 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 Eh ragazzi l'avevo a destra e a sinistra L'avevo sentito da entrambi i lati Non sapevo dove mirare Queste sono proprio le morti di merda Che non puoi proprio evitare Perché come fai a evitarle Ok Voi avete l'UAB ma io ho le cuffie Fio mio Eccolo No non è vero è l'alleato A sinistra Eh grazie perché io non so veramente dove sono Ok Allora 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 Non sto parlando non perché non so cosa dire Ve l'ho detto raga perché sono Abbastanza concentrato Ce n'è uno camperato sopra sicuramente infatti Però non sta mirando qui Eh ora si Eh raga Brutta storia Proviamo Proviamo a prenderlo da qui Perfetto No 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 Ma raga questa è una lobby di camper Cioè Quello è il brutto quando hai livelli bassi contro Che non è che Che rushano Perché se rushassero non sono buoni a giocare Va bene L'ammazzi tutti e via Brutto che camperano in luoghi dove tu non ti aspetti proprio Perlomeno a me succede così Cioè È incredibile Oddio l'ho perso completamente di vista Ok Eh tocca andarcene Eh vabbè infatti Lo sapevo che non sarei Non saprei Non saprei Non sarei sopravvissuto lì Allora Ora ne sale uno Infatti Eh vaffanculo tu Mamma mia Ora sbuga da qui Teoricamente Noi però l'anticipiamo Ok Ok Sono una cifra di là raga Però non ci hanno visto Speriamo che Ok 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 No 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 Ma attaccati a sto cazzo C'ho l'andata di calore Attaccati proprio a sto cazzo Ok Qui ce ne dovrebbe essere No Non è vero Fondiamo questo cuda Così Tanto per Non si sa mai Dovessimo finire i colpi Quando mai Quando è che andrò in serie Durante un video Durante un live Non riesco A concentrarmi Durante i live Raga Ok raga Ce n'abbiamo uno dietro Non è vero È andato di qua Infatti Eccolo qui Perfetto Ora dovrebbero uscire Da destra Prendiamo sto cuda Va Che è silenziato Perfetto Eh però se rimaniamo qua Crediamo Cento per cento Perfetto No Fanculo Dai ma ti pare Che ce ne stanno Sempre due Oh Mi giuro Una cosa Cioè Sono morti Impossibili da non fare E vabbè Questo col pompa E vabbè Questo col pompa Ci sciotta Così male Ok Perfetto Allora Comunque Da quanto ho visto Hanno tolto Sono riuscito a risolvere Il bug Delle Mi mediche Che te le toglie Ok ce n'è uno Vaffanculo Tu hai il pompa Ce n'è uno Qui sopra Ce n'è uno Di qua Guarda che infame Oddio Resuscita No Oh mio dio Penso Ero convinto Di averla secondaria Ero proprio Convinto Raga Convinto Convinto male Ok Ok 30 punti Perfetto Ok Sono tutti di qua Arriverà uno qui Perfetto Wavvi nemico E noi Gli mettiamo il controattacco Sono un deficiente Comunque Sempre lì dentro è Quindi possiamo Killarlo facilmente Non è morto Non ci credo Ok Ok Merda Merda Via 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 Merda Speriamo che non mi hanno visto Raga Infatti non mi hanno visto Oddio Ho finito i colpi Non c'ho il cuda Beh no Era la vita precedente Che avevo il cuda Cerchiamo di andare di qua Speriamo che non ci sia nessuno Preghiamo il dio E invece c'è Però gli rubiamo l'arma Gli rubiamo l'arma Siamo senza pietà signori E ci abbiamo andato di calore Andiamo di qua Oddio che paura Dai che tra 40 punti Abbiamo il visot No però è finita la partita Ma fa cagare Ora dove devo fare dominio No Ok visot vai Perfetto Ora che è finita la partita Giustamente abbiamo il visot No Oh Perfetto raga 37 Manco male Manco male Sono Veramente soddisfatto Dai Speriamo che ho registrato tutto Più che altro Ora vediamo Ragazzi Ci vediamo in lobby Direttamente Per vedere Finalmente Il maestro prestigio Perché dovremmo esserci Con il bonus partita Spero E quindi niente Ci vediamo direttamente In lobby raga A tra pochissimo Ok raga Eccoci il lobby Complimenti Hai completato tutti i livelli prestigio Ora sei un maestro prestigio Armi Covagiamento Specialità Wild Specialiste Serie Di punti Crea una classe Sono tutti sbloccati In modo definitivo Facciamo ok E quittiamo ovviamente Da questa lobby Ed ecco qui Il livello 56 raga Non sapete quanto Sono contento Perché È il primo Call of Duty Io gioco da Call of Duty Modern Warfare 2 E quindi è il primo Call of Duty Che sono finalmente riuscito Ad arrivare al decimo prestigio Ve lo giuro Non ci sono mai riuscito Ad arrivarci Perché non Non lo so Perché ho giocato sempre tanto Ma non prestigiavo subito Invece su questo code Sì Quindi vediamo che qui Abbiamo ormai tutto sbloccato Non ci saranno più punti di sblocco E stronzate del genere Anche qui tutto sbloccato E niente ragazzi Io spero che questo video Vi sia piaciuto Se è così ovviamente Lasciate un like Un commento Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto Per rimanere aggiornati Perché vi ricordo Che faccio un video al giorno Noi ci becchiamo Come sempre Domani Con un prossimo video Alle 14 In teoria Qui da Travis è tutto Bella ragazzi Noi ci becchiamo